Io sono un motociclista, un baricester, un osso duro, che lo ti ha scritto, ecco un motore, un pedo! Che è l'osso duro? Perché lei è così neppopo? Che lei si è arrabbiato perché stamattina la mia moto non si voleva accendere! E lei che ha fatto? C'è messo il fuoco! Ma che c'è? Che c'è di accendere in questo senso? Scusa, ma questo era un problema alle candele, mamma di... Ma io ci ho provato alle candele! Ma che succede? Ho anche volato al sudano! Ma non queste! Queste non c'entrano niente! Ma... ma fa arrabbiare questa... Pollo questo! No, chi sei la prima veramente! No, pollo! Ma che... Mamma! Mi hai raggiato io, no? Ma che fai? Mi chiamo a quest'ora? Mi disturbi? Aspetta e mi chiami per sapere che cosa mangio a cena! Non lo sai, io posso duro! Che cosa mangio a cena? È la fatta di carne! No! Un ciglia di patate! No! 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 Ma, ma! A ver se la coppa è magia! No, sì! Grazie.